Lucas Papademos è stato incaricato di traghettare la Grecia fuori dalla crisi. L'ex vicepresidente della Banca Centrale Europea si appresta a giurare da primo ministro, probabilmente domani. In queste ore si sta ancora trattando sulla composizione del governo. Nel frattempo, Papademos si è affrettato a confermare la fedeltà all'euro. La strada non sarà semplice, ma sono convinto che i problemi saranno risolti. Sono convinto che la partecipazione del paese all'eurozona sia una garanzia di stabilità monetaria. La scelta dell'economista è arrivata dopo quattro giorni di intensi negoziati nella residenza del Presidente della Repubblica, Papuglia, sa fare da arbitro e interprete delle esigenze della comunità politica e soprattutto finanziaria internazionale, i grandi partiti a litigare su nomi e soluzioni. Si era inizialmente pensato al Presidente del Parlamento per sostituire il dimissionario George Papandreu, ma la destra lo ha ritenuto inaccettabile. Su Papademos è stato finalmente trovato il compromesso.